Le associazioni datoriali che rappresentano il mondo dell'artigianato e della piccola impresa in Abruzzo esprimono soddisfazione per le misure adottate dalla Giunta Marsilio e dall'assessore alle attività produttive regionale Daniele Damario. Ai 6 milioni di euro stanziati, con la pubblicazione di novembre del bando dedicato al rilancio e all'ammodernamento delle imprese artigiane, si aggiungono altri 6 milioni, per un totale di 12 milioni di euro, con sovvenzioni a fondo perduto dell'80%. L'assessorato avrebbe così mantenuto la promessa di aumentare le risorse disponibili per il bando pubblicato a novembre e al quale hanno risposto oltre 1.000 aziende, sostengono le associazioni artigiane. Con lo scorrimento in graduatoria di dicembre, infatti, sono state ammesse al contributo e saranno finanziate 393 domande, dicono gli esponenti di Casa Artigiani, della Confederazione delle Libere Imprese Artigiane, della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e di Confartigianato. Si tratta di provvedimenti utili al comparto artigiano e alla piccola impresa, su questo non c'è dubbio. La Regione Abruzzo, di concerto con le parti sociali, deve però impegnarsi e subito a reperire le risorse che assicurino liquidità agli imprenditori per affrontare l'attuare scenario di incertezza e crisi economica.